Il mio patrimonio consiste nella residenza di Villa Mandragora e la mia ricerca in materia magica ed esoterica che mi è costata una vita intera di segregazione ed isolamento dai miei cari e dal mondo intero Ma tu come stai? Non lo so, adesso, non mi sento tranquilla Rosa, amore, sono in pericolo Grazie